Le truffe online sono di ogni ordine e grado, di ogni tipologia. Noi abbiamo il serpente corallo, ne parliamo in tantissime trasmissioni da tanti anni, ma adesso è arrivato il momento di mettere un punto definitivo magari di natura legislativa. E' proprio domani alla Camera dei Deputati verrà presentata la proposta di legge per contrastare le truffe online. Tra i firmatari c'è l'onorevole Letizia Giorgiani, anzi prima firmataria della proposta di legge e noi la salutiamo, peraltro dandole il bentornato, la bentornata, perché Letizia Giorgiani, ancora prima di intraprendere la carriera parlamentare, insomma l'avevamo conosciuta come paladina delle vittime dei crack bancari, delle banche risolte. Nel 2015-2016. Buongiorno onorevole Giorgiani e bentornata, intanto grazie. Buongiorno, buongiorno. E ricordo con un po' di nostalgia, a dir la verità, le nostre interviste, appunto come hai anticipato in materia di risparmiatori truffati. Ma dico questo perché leggendo il messaggio che vi è arrivato da questa signora stavo proprio pensando che se alle lacune in materia finanziaria di cui noi abbiamo ampliamente parlato quando vennero in qualche maniera volatilizzati i risparmi in obbligazioni dei risparmiatori di banche trulli e delle altre banche, si aggiungono le nostre carenze. In Italia purtroppo abbiamo la maglia nera in materia informatica, ecco che abbiamo una ricetta come dire mortale per i nostri risparmi. È una combo che assolutamente dobbiamo in qualche maniera evitare. Ma questa email ci dà un'occasione di riflessione in più rispetto a quello che avrei detto riguardo la mia PDL che verrà presentata domani. Infatti nel 2023, questi sono i report della Polizia Postale, le truffe inerenti il trading online hanno raggiunto la cifra record di 111 milioni. Cifra che poi è andata sempre più ad incrementarsi negli anni. Ora, leggendo le mail di questa signora sembra che qua ci sia stata una prima pubblicità ingannevole su internet, mi veniva da dire no, magari con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ahimè adesso questa grandissima risorsa è un'arma in più purtroppo per chi compie questo genere di illeciti. E quindi con l'intelligenza artificiale si riesce tramite una semplice immagine e la sintesi vocale della voce di questo personaggio a creare un video dove davvero sembra essere il personaggio stesso a invitare a questo tipo di investimenti. Quindi qui abbiamo una prima pubblicità ingannevole su internet e poi evidentemente un finto broker, e poi magari qui ci viene un ulteriore spunto di riflessione, che si finge intermediario e poi è anche un'app, una piattaforma di trading illegale. Quindi insomma, siamo più fatti di spesso. Quello che dispiace di questa situazione è che la signora purtroppo se l'è andata a cercare perché si è lasciata convincere da una pubblicità. In tanti altri casi questi broker farabutti telefonano di loro iniziativa e proponendo delle attività di investimento appunto chiaramente attirano queste vittime e quindi ci sono altre modalità ancora più subdole per andare a cercare appunto le persone per far fare questi investimenti. In che cosa consiste questa proposta di legge Letizia, appunto che cosa, che tipo di contenuto ha? Insomma anche perché spesso il tema è che questi truffatori sono inafferrabili nel caso di questo qua di Londra. Come può una legge italiana trovare la soluzione per andare poi a sgominare anche queste reti di truffatori che spesso sono anche molto ampie? Allora, innanzitutto noi partiamo di vista che prevediamo un aggravante, cioè oggi la fattispecie di truffa online non è riconosciuta. Cioè a fronte di un fenomeno che è sempre più dilagante e che impegna negli ultimi dieci anni soprattutto i nostri tribunali sempre di più non abbiamo in qualche maniera sul piano normativo, non ci siamo ancora adeguati il corrente impianto penale. Infatti rimane l'articolo 640 del codice penale che è quello inerente alle truffe generiche. Noi invece pensiamo, e vado subito a risponderti, che qui ci sia un ulteriore aggravante. Ricordiamo che l'articolo 640 del codice penale prevede che chiunque con artifici e raggiri e introducendo taluno in errore procura per sé un profitto con altrui danni e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 51 euro fino a 1000 euro. Noi prevediamo però nelle truffe online un aggravante per un motivo. Nella truffa online, e sono di tutti i tipi, non solo quello della signora del trading online ma anche degli acquisti fantasma. Esattamente, per le commerce infatti, infatti era proprio il punto a cui sarei voluto arrivare dopo. Esatto, il mondo è veramente eterogeneo quello delle truffe che si consumano sulla rete. Sì perché c'è da dire una cosa velocissima. Da dopo la pandemia abbiamo avuto questo incremento di acquisti online. Anche le persone che prima non erano abituate ad acquistare online, con la pandemia, dovendo per forza i negozi erano chiusi acquistare, si è allargato questo numero di utenti. Numero di utenti che prima non erano abituati ad acquistare online e quindi assolutamente un pochino più fragili. Ma all'aumento di questo numero di utenti sono aumentati anche questi truffatori che stanno nei mesi, di mese in mese, applicando tecniche sempre più sofisticate, vedi l'intelligenza artificiale ma anche altri tipi di gente, per riuscire ad ottenere massimo profitto da questa attività illecita. Quindi è un fenomeno veramente serio e veramente preoccupante. Quindi cosa dicevamo? Noi poniamo un aggravante perché nell'acquisti online, ad esempio, vendita fantasma, cioè io acquisto un oggetto che non ho visto, quindi nell'aggravante c'è il fatto che l'acquirente è in una posizione sfavorevole rispetto all'acquirente che va nel negozio e che magari acquista un prodotto non funzionante oppure un qualsiasi altro acquisto che ovviamente comporta una truffa. Qui è ancora in una posizione più svantaggiata dal fatto che agiamo in un ambito virtuale che non esiste e c'è una distanza tale che pone, e soprattutto questo è l'aggravante, pone il reo di questi reati in una condizione in cui può sottrarre la propria identità. Se nel negozio fisico c'è un venditore con nome e cognome che è facilmente comunque riconducibile, nel mondo online, virtuale online, delle vendite online, il reo può nascondersi dietro un indirizzo IP, dietro una falsa identità e quindi c'è questa condizione di svantaggio. E poi rispondo anche all'altra tua domanda. Quindi noi che cosa chiediamo? Chiediamo in qualche maniera un aggravarsi della pena che è quella della truffa generica. Quindi innanzitutto prevediamo per questo genere di reati che volutamente abbiamo classificato come truffe online generiche, proprio per metterci anche la fattispecie di cui è stata purtroppo vittima la signora delle truffe online. Quindi prevediamo la confisca obbligatoria degli strumenti informatici in possesso di chi compie questa truffa, computer, telefonini, tablet, che se ci pensiamo bene sono strumenti essenziali per commettere questo reato e poi c'è anche da dire, anche secondo il report della polizia, che si tratta sempre di soggetti seriali e cioè che fanno questo tipo di reati in serie, cioè sempre truffe dello stesso genere. Inoltre, l'altra cosa, introduciamo la confisca per un importo equivalente al profitto realizzato tramite il reato. Creiamo un deterrente perché oggi una multa di 60 euro è di fatto una pena teorica, diciamo una pena assolutamente teorica perché poi oggi con i limiti di pena che abbiamo per questo tipo di reati, ovviamente non si va mai in galera, ma voglio dire, permettetemi, non si va in galera neppure ci si rende responsabili della morte di un bambino per la condotta scellerata alla guida, figuriamoci per questo tipo di reati. E allora noi confischiamo i computer, confischiamo tutto lo strumento che serve per perpetrare queste truffe e almeno rappresenta sicuramente un deterrente. Allora, volevo segnalare che appunto intanto ringraziando Letizia Giorgiani per averci dato l'anteprima rispetto a questa iniziativa che si svolgerà domani mattina presso la sala stampa della Camera dei Deputati, appunto alla presenza della stessa prima firmataria, l'onorevole Letizia Giorgiani, ci saranno anche l'onorevole Grazia Di Maggio, l'onorevole Fabrizio Rossi, quindi insomma diversi parlamentari che hanno capito l'importanza di prendere davvero di petto questa vicenda. Fra i relatori di domani mattina ci saranno anche un amico di Due Di Denari, il presidente dell'Associazione Consumerismo Luigi Gabriele, insieme all'avvocato Lorenzo Allegrucci, vicepresidente dell'Associazione Italia Oggi. Aggiungo Letizia che sarà, tra l'altro ci diamo del tuo perché ci conosciamo da una marea di anni, che è necessario fare questo, andare avanti con forza e accompagnare tutto questo di nuovo con un ulteriore rafforzamento e una campagna informativa per tutta la popolazione, perché ci sono persone che ascoltano Radio 24, che leggono i giornali e che riescono alla fine a tutelarsi da tutti questi tentativi di truffa che spesso hanno successo, ma altri che non sono raggiunti, perché l'ascoltatrice che ci scrive chiedendoci ma ne parlerete prima o poi significa che non ha mai sentito la radio, non sa quante trasmissioni abbiamo fatto, non sa che campagne durissime facciamo da questi microfoni, quindi bisogna davvero raggiungere di più forse le fragilità, le marginalità della popolazione che non ha gli strumenti per capire quando queste scelte non vanno fatte, quando a questi personaggi non va dato retta. Che ne pensi? Assolutamente. È come un po' nei risparmiatori di Banca Etruria, di cui tu vi ricordi perfettamente, che è stata tra i primi, tra l'altro ad occuparsi quando ancora il fenomeno non era, come dire, così poi conosciuto come è stato poi in tutte le emittenti e tutte le televisioni. Anche lì, diciamo, i risparmiatori truffati erano proprio quelli che più non erano capaci di capire il rischio di quel determinato prodotto finanziario. E così nelle truffe online, perché le vittime prescelte da questi tipi di truffatori sono proprio le categorie più fragili, cioè persone che, come diceva prima, non hanno grandi strumenti informatici anche per un corretto utilizzo della rete e soprattutto sono persone che a livello finanziario non hanno grandi cognizioni. E quindi è particolarmente odioso questo reato perché va veramente a truffare i più fragili e quindi tu sai, Deborah, che io su questo ho un tasso debole per me e cercherò di far tutto ciò che sarà possibile per vedere la vita di questa legge. E noi, lato nostro, vi sosterremo nella migliore modalità possibile. Grazie all'onorevole Letizia Giorgianni. Fateci sapere anche come prosegue il percorso parlamentare che interesse troverà anche tra gli altri colleghi. Insomma, si cesserà la possibilità di vederla trasformare in legge della Repubblica. Intanto quella che da domani sarà una proposta. Grazie. A presto Letizia. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.